Ecco, bravo, ottimo, venite avanti. Buonasera, noi dobbiamo dire solo poche cose. Intanto questa è una delle sette manifestazioni della voce dei libri dentro a questa magnifica sala borsa. Spero che tutti la conosciate, ma chi non l'avesse mai vista, questa è la più bella sala dove si parla di libri a livello nazionale. Così bella non esiste. Allora, questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Enrico Brizzi, che ha scritto questo libro La Primavera Perfetta, pubblicato da HarperCollins. Con Enrico parla Francesca Parisini, ma la cosa curiosa del libro, per chi non l'avesse ancora preso in mano, nella quarta di copertina c'è l'essenza vera del libro. E lo dicevo prima con Enrico, ci sono parole bellissime, che come solitamente si fa in libreria, quando entri tu prendi in mano il libro e guardi la terza di copertina, la seconda, insomma, guardi cosa ti comunica. E qui dice, Enrico Brizzi, scrittore tra i più amati degli ultimi trent'anni, scrive uno dei suoi romanzi più belli. E ancora, il libro della maturità, la storia della caduta e della redenzione di un uomo lontano dall'essere perfetto, ma al tempo stesso irresistibile, un meraviglioso concentrato di difetti, superficialità, speranze, slanci di voglia di lottare, dei vizi e delle virtù, insomma, che rendono umani. Beh, uno che legge questo non può fare altro che comprare il libro e andare oltre. Allora, La Voce dei Libri nasse alcuni anni fa sulla sia del grande Ezio Raimondi, che ha scritto un libro sulla voce dei libri. Chi non lo conoscesse, è un libro che costa poco, pubblicato dal Munino, si trova in tutte le librerie. E il grande Ezio Raimondi mi diceva mi resi conto che il rapporto con la cultura è sempre un rapporto con il nuovo che ci permette di conoscere e nello stesso tempo di imparare ad accettare i nostri limiti e a combatterli. Io conosco Enrico da quando ho cominciato a scrivere, in un'altra, naturalmente, location, però è sempre stato un ragazzo che, fin dall'inizio, tutte le cose che metteva in pista erano cose estremamente curiose, molto divertenti, molto profonde anche nelle sue descrizioni. E tra l'altro, pensando a lui, ho pensato che ci stesse perfettamente anche questa frase di, se non la conosci, Stefan Zweig, che è un grande, diceva, il libro ha il potere di dilatare l'anima e costruire mondi nella nostra vita interiore. Senza quella perpetua ossigenazione del cervello, si rimane ammurati in se stessi. Mentre quando leggiamo, cos'altro facciamo? Se non partecipare dall'interno alla vita di persone strane, vedere con i loro occhi, pensare per il loro cervello. Ed è proprio vero. Io sono sicuro che questo libro ci darà questo tipo di emozioni. Allora, il tutto organizzato dal Comune di Bologna, le istituzioni biblioteche, con il supporto di Copp Alleanza 3.0, Copp Alleanza 3.0, e con la partecipazione anche della logistica, della banca Biper, e il patrocinio del centro del libro, perché ogni cosa che si fa per divulgare la lettura il centro gli concede il patrocinio. Io non ho altro da dire che non sentire la Parisini che ci deve coinvolgere e stimolare per farci comprare il libro. Ciao. Eccoci. Buonasera a tutti. Direi che è un po' una reunion in un certo senso, un po' perché forse è la prima volta dopo dieci mesi che vedo una platea senza uno schermo in mezzo, questo l'avranno detto in molti, probabilmente, partecipando a questi incontri, e poi perché erano non dieci mesi, ma forse dieci anni o quindici anni che non vedevo Enrico, e mi fa molto piacere di essere qui ed essere qui in questa occasione, quindi ringrazio sia HarperCollins che Coppaleanza 3.0 per questo invito. Il libro, come anticipava Montroni, è La primavera perfetta, romanzo perfetto, forse mi viene da dire, nel senso che molta della tua produzione negli ultimi anni è stata anche dedicata non solamente al romanzo, insomma, è stata dedicata anche a raccontare un tuo modo di viaggiare, un tuo modo di incontrare storie, che forse dopo avremo occasione di parlare anche di questo. È un romanzo corposo perché la storia è corposa, la storia è piena di episodi, è un'odissea di Luca, il protagonista di questo romanzo, che per un anno, diciamo, ci fa entrare in questa sua vita che improvvisamente subisce degli stop, delle accelerate, delle fermate, delle discese e delle risalite, quindi direi che è un anno vissuto pericolosamente. Luca è un quarantenne bolognese che a un certo punto della sua vita cerca fortuna nel campo della comunicazione, insomma è un professionista di successo in una città come Milano, che è la città dove chi fa questo lavoro e tanti altri insomma va a cercare fortuna, lascia qua la sua famiglia che è una famiglia fatta ad un babbo, il capotrene, di una mamma, la Sandra, e di un fratello che è l'altro protagonista, uno degli altri protagonisti di questo romanzo, Oliver, lo diciamo all'inglese, mi sono chiesta per tutta la lettura e a Milano si costruisce una nuova famiglia, una moglie, due figli, un figlio e una figlia e una vita piena di aspettative, le aspettative personali e professionali subiscono delle fasi di arresto abbastanza importanti, a un certo punto Luca è costretto insomma ad abbandonare questa sua attività nel campo della comunicazione e comincia a lavorare con il fratello Oliver che è un ciclista, è un ciclista di successo e il cui successo è legato anche al lavoro che fa Luca per Oliver perché Luca diventa il suo manager ricostruisce parte della fortuna insomma di questo sportivo di successo e inizierei da qui forse in un certo senso mi piace anche molto dialogare insomma se Enrico è d'accordo instaurare un dialogo più che un monologo un po' mio e un po' suo insomma e quindi cercare di rendere un po' più vivo questa reta che passeremo insieme tra i tanti protagonisti di queste storie di questa storia con molti intrecci ci sono queste due famiglie una famiglia tradizionale in un certo senso forse una famiglia di queste normali anonime che molti di noi hanno avuto in una città di provincia e questa invece nuova famiglia che Luca ha costruito nella città dove ha riposto le sue aspettative insomma come uomo e come professionista ma una famiglia che a un certo punto anche questa si disfa ed è una delle difficoltà che si trova a vivere Luca in questo anno raccontato all'interno di questo romanzo la famiglia è un tema a te caro mi pare insomma nel senso che gli intrecci personali insomma la famiglia ne hai raccontato altre volte e è un tema forse che non so nella letteratura ultimamente non sempre ha trovato grande successo insomma non sempre ha trovato grandi interesse perché uno dei protagonisti di questo romanzo è la famiglia come istituzione come modalità di vita come organizzazione sociale ma intanto buonasera a tutti grazie Francesca grazie a Romano Montroni per l'invito soprattutto grazie a voi per essere qua credo che scrivendo questo libro il proposito principale all'inizio forse inconsapevole poi sempre più in in primo piano sia stato quello di tornare a maneggiare a trattare i temi narrativi che mi hanno colpito all'inizio la mia quando ero ragazzo puntavo la sveglia un'ora prima prima di andare al liceo per scrivere un capitoletto nuovo delle mie storie prima di saltare in bicicletta e andare a scuola e all'epoca ero un ragazzo di 16 17 anni e quindi conoscevo poco del mondo conoscevo essenzialmente la famiglia la scuola com'era essere tra pari com'era essere un ragazzo che come tanti a Bologna aveva grandi aspettative dal punto di vista della propria carriera nel mondo musicale ma si doveva arrendere al fatto di essere indubbiamente il bassista peggiore della città forse di tutta Italia e il mio primo incontro con un editore avvenne sotto le due torri è una storia che i miei amici conoscono gli ho raccontato fino allo sfinimento quindi mi scuso cercherò di tenerla breve però è da qui che parte questo racconto la prima cosa che ho scritto al di là dei brevi testi per giornalini scolastici autoprodotti è stato un plagio è stato un plagio vergognoso di un film visto a Lumieri in uno di quei pomeriggi per studenti con tipo 8.000 lire e 5 film e la gente entrava con con le provviste con le masserizie per fare dalle 3 di pomeriggio a mezzanotte in sostanza e man mano qualcuno cadeva tornava a casa si addormentava insomma l'ultimo film della serata era Blade Runner che io non avevo mai visto e visto che eravano rimasti svegli in sala in pochi ho pensato lo conosciamo pochissimi questo film potrò ispirarmi e raccontare questa storia a modo mio e nessuno si accorgerà che è copiata non tanto per il piacere di copiare qualcosa quanto per la voglia di scrivere e la consapevolezza che si scontrava con la consapevolezza di avere una vita banale e se hai una vita banale cosa puoi raccontare i miei autori preferiti dal mio punto di vista avevano tutti vite eccezionali lasciamo perdere Kerouac Chatwin quelli che proprio veramente non sono stati fermi un attimo ma nella mia illusione chiunque scriveva o era non lo so un agente segreto un grande viaggiatore un uomo che invece di fare la stagione a Rimini al bar aveva fatta sulle baleniere e la mia vita invece era assolutamente ordinaria e insomma riscrissi a modo mio come può farlo un diciassettenne Blade Runner commisi l'imprudenza di farlo leggere a un po' d'amici e alla ragazza della quale tenevo in grande considerazione l'opinione e tutti mi dissero bravo però ma che fantasia ma come hai fatto a inventare una storia del genere io così insomma mi è venuta così perché non la mandi agli editori a quel punto non potevo tradirmi quindi alla libreria di Romano c'era l'almanacco degli editori con gli indirizzi presi in prestito copiai gli indirizzi delle case editrici principali e in un unico barlume di lungimiranza di quelle che negli anni 90 erano le case editrici indipendenti che lavoravano soprattutto sui ragazzi era un sistema editoriale molto diverso rispetto a quello di oggi c'era chi faceva scouting come si dice c'era chi permetteva ai ragazzi di fare gavetta tra queste Trans Europa un'etichetta di Ancona che aveva pubblicato tre antologie a cura di Pier Vittorio Tondelli chiamate Under 25 io ero pure Under 18 quindi cadevo perfettamente nella categoria e mando anche a loro la mia scopiazzatura di Blade Runner passano mesi in cui nessuno mi risponde un pomeriggio torno a casa e mia mamma dice era all'epoca dei telefoni fissi ha chiamato un editore ti vuole vedere sotto le due torri vado pensando che sia uno scherzo dei miei amici quindi astutamente passo dal ghetto invece che andare dritto per via Rizzoli e mi rendo conto che c'è veramente un uomo imponente che è in attesa sotto le due torri ma io me lo ricordo alto quasi come la Garisenda cioè enorme con questo impermeabile da editore le scarpe da editore e era un editore e gli vado incontro lui mi dà la mano mi presento e sono incredulo un editore ha dato appuntamento proprio a me e magari mi sta anche per dire che pubblica il mio libro invece mi dice come cazzo ti è venuto in mente di copiare Blade Runner e io mi sarei sepolto dalla vergogna naturalmente però non potevo fuggire perché ero trattenuto dalla sua mano e subito mi chiede hai letto i consigli che Pier Vittorio Tondelli ha dato ai giovani che vogliono scrivere io di per lì sono stato tentato di dire certo però ormai sapevo che era inutile mentire a quell'uomo per cui ho confessato di no lui ha tirato fuori una fotocopia dal taschino fa leggili io inizio a leggere e dice raccontate delle storie che conoscete non copiate il cinema se vivete in una città di provincia non fingete di vivere a New York Tokyo San Paolo del Brasile insomma in tre quattro cinque consigli a Tondelli che era scomparso da pochi mesi ha demolito a distanza tutto quello che io credevo di sapere sulla narrativa di fronte all'editore che era Massimo Canalini di Trans Europa confessai candidamente ma la mia vita è noiosa cioè cosa posso raccontare vado a scuola suono con una band sconosciuta ho degli amici che a volte mi sembrano fratelli e altre volte una manica di stronzi amo una ragazza che non è decisa a mettersi con me perché tra poco deve partire per l'altra parte dell'oceano e pensa che se ci metteremo insieme soffriremo terribilmente tutti e due cosa si racconta con una vita così e Canalini mi disse questo devi raccontare esattamente questo e così è cominciata la mia avventura tutto questo excursus che forse parecchi di voi già conoscono per dire che nello scrivere la primavera perfetta io ho cercato di tornare alle basi ai fondamenti a quello che conoscevo della scrittura in quel momento esatto cioè provare a raccontare qualcosa che abbia a che fare con la vita delle persone non importa tanto che sia la mia autobiografia di Enrico Brizzi nata a Bologna nel 74 ma la vita delle persone che avevo intorno e diciamo che passati i 40 anni a ogni cena a ogni birra bevuta con gli amici alla fine di una giornata di cammino o in viaggio da qualche parte mi sembrava di sentire con una costanza veramente ostinata qualcuno che saltava su e diceva quello stronzo del mio ex quella stronza della mia ex e ho iniziato a pensare su perché si prova tanto rancore verso quelli che sono i nostri ex che ora io non sono di quelli che dice con gli ex bisogna essere amici è un po' difficile perché hai vissuto delle passioni tali per cui è complicato essere amici come sei amico senza nessun non detto del tuo migliore amico però non è nemmeno obbligatorio odiarsi e mi sono interrogato a lungo su questa faccenda vengo a risponderti perché la famiglia perché se si racconta un romanzo realistico in Italia è impossibile non parlare di famiglia la famiglia è un mattone è un elemento fondamentale della nostra società nel bene nel senso che pensate avrete amici magari che vivono in Inghilterra negli Stati Uniti tutti si rendono conto come i genitori i fratelli siano molto più distanti in società diverse dalle nostre e noi abbiamo un culto della famiglia che passa attraverso esperienze magnifiche fare il pranzo di Natale facendo saltare sulla coscia la tua nipotina oppure cucinare insieme i tortellini e tante altre dimostrazioni d'affetto ma d'altro canto la famiglia finisce anche per diventare pesante non perché siano necessariamente pesanti le persone che ci sono dentro perché sappiamo che in una cittadina italiana X è molto più probabile che diventi notaio o farmacista il nipote del notaio o del farmacista precedente non eccelliamo esattamente per mobilità sociale quindi la famiglia ha anche una forma di porta in sé una forma di determinismo in Italia faccio un salto di 26 anni e di un oceano quando era uscito da poco Jack Fruscianto è uscito dal gruppo l'andai a presentare a Cuba alla feria del libro latinoamericana appena vidi avevo 20 anni appena vidi che aria tirava da quelle parti con il ministro della cultura che era uno che era stato a fare il guerrigliero con Castro eccetera un mondo interessantissimo senza nulla togliere via Zamboni però insomma la vanera interessante e il insomma feci in modo di smarrire il biglietto aereo di ritorno invece di tornare dopo quattro giorni tornai dopo un mese e in quel mese conobbi un sacco di persone girai un po' l'isola e in particolare diventai amico di questo ragazzo che si chiamava Francisco lui aveva 28 anni che all'epoca mi sembrava l'età di un patriarca erano solo 28 anni e rimasi sballordito quando mi raccontò nella maniera più tranquilla del mondo che lui era stato sposato e divorziato tre volte e aveva figli da tre donne diverse e io iniziai a rimuginare insomma allora se servono dieci anni per sette otto non lo sapevo neanche ma anni per divorziare cioè la prima volta si è sposata all'asilo cioè come funziona e lui mi disse ma no ma qua da noi è facilissimo vai all'ufficio di quartiere in due metti una firma poi stato socialista per cui i figli erano tutelati diciamo non solo dai genitori come dovere morale e civile ma lo stato pensava a tutto per cui mi ha sempre colpito questo esempio di come creare una famiglia e sciogliere il vincolo di una famiglia ovviamente il vincolo che si scioglie tra partner non tra genitori e figli quello resta va da sé fortissimo e al centro della tua vita non è obbligatorio che sia vissuto in maniera drammatica dipende un po' dalla società in cui accade e da noi è estremamente drammatico da cui quello stronzo del mio ex quella stronza della mia ex un altro tema che si è incrociato con questo era il fatto di rendermi conto che un sacco di persone che io di solito pubblico con editori che hanno la sede a Milano e Milano è stata anche la prima città in cui ho assaporato una collaborazione giornalistica appena finito il liceo una cosa che oggi sembra fantascienza all'epoca era un concorso di racconti i primi due ragazzi che si qualificarono vinsero non solo la pubblicazione vinsero un posto di lavoro cioè una cosa oggi sembra fantascienza altro che Blade Runner e quindi l'anno prima ero a fare i temi in classe l'anno dopo ero alle riunioni di redazione con una all star incredibile di cui facevano parte intellettuali seriosissimi come Goffredo Fofi giovani promesse del giornalismo di costume tipo una signora che poi ho sentito dire che ha fatto carriera in tv una giovanissima Barbara D'Urso e insomma c'era veramente di tutto un po' inimmaginabile c'era veramente i parti di guerre stellari a proposito di sì esatto anche i parti di guerre stellari all'epoca e insomma il tema della città d'origine è Milano che per alcuni è Milano per altri è Roma per altri è Londra cioè la città dove vai e ti confronti col mondo del lavoro e insomma da queste da questi due temi è venuta fuori questa storia che è venuta fuori come spesso succede rimuginandoci a lungo e poi hai un attimo in cui ti sembra ovvio cosa raccontare la fattispecie mi è sembrato ovvio raccontare di quest'uomo che da Bologna si è mosso è andato a Milano ha sposato una donna non solo affascinante ma anche celebre perché ha un suo ruolo in televisione ci ha fatto due figli insieme ha un fratello minore il padre li voleva entrambi sussumere verso la sua grande passione che è il ciclismo padre capotreno per le ferrovie ma ciclista amatore di quelli che come si dice fanno la vita non sgarrano di un grammo sulla dieta sull'ora in cui si va a letto eccetera Luca il protagonista è il maggiore ha sette anni più di Oliver quindi arriva all'età in cui può cimentarsi col ciclismo e molte altre cose prima solo che come ciclista non è né mediocre ne è pessima è proprio il contrario di quello che serve per fare il ciclista lui non vuole mettersi in mostra sta nascosto nella pancia del gruppo perché ritiene che andare in fuga è un po' timido pensa che sia una figuraccia se poi lo riprendono e lo superano insomma quindi il contrario di quello che bisogna fare in uno sport in cui vince chi taglia il traguardo per primo e infatti appena l'età giusta per dire guardare il padre negli occhi dalla stessa altezza gli dice ma io non voglio fare ciclista a me fa schifo e addirittura vende la bicicletta la scambia con uno strumento musicale perché lui vuole star fuori la sera vuole andare al pub vuole bere fumare tutto quello che un ciclista non deve fare allora il padre ci si mette col fratello più piccolo quando Luca ha 17 anni il fratellino ne ha 10 per cui ci sono ancora speranze di fare di lui un ciclista il padre si ingegna non so se avete letto un bel libro che è la biografia di Agassi Open ecco quello è un esempio di come se penso anche agli sportivi professionisti che conosco ma in generale a quelli che in dialetto milanese chiamano workaholic cioè quelle persone che sacrificano tutto per il lavoro ecco nella vita di queste persone c'è sempre una figura dominante che li prende da piccoli e li sbatte davanti allo spara palline da tennis nel caso di Agassi in sella una bici nel caso dei ciclisti a studiare determinati argomenti nel caso di chi poi diventa un professionista di un settore specifico è così anche per il capotreno e il piccolo Olli per cui il padre istituisce un sistema di gratificazioni e premi se ti alleni bene ti compro le gelatine goleador se vinci la garetta ti compro i masters i pupazzetti o i pupazzetti del wrestling eccetera Olli vince inizia a vincere nelle categorie da bambini degli elementari continua a vincere in tutte le serie giovanili arriva a diventare un professionista e un professionista di grande successo in tutto questo come spesso accade i bambini la sanno un po' più lunga dei loro genitori per quanto riguarda ciò che sentono intimamente e mentre il padre è convinto di avere condizionato Olli Olli si impegna così tanto per un altro motivo si impegna così tanto perché vede che se lui vince il padre è contento e se il padre è contento è contenta anche la mamma per cui si convince che se lui vince in bicicletta se va molto forte in bicicletta gli vorranno più bene non gliene frega niente dei premi gliene frega di sentirsi amato come a tutti noi e questi due fratelli hanno due modi molto diversi di aspirare in maniera legittima a sentirsi amati Luca è un animale sociale è uno che appunto è cresciuto lavorando nella comunicazione fa il manager per cui ha contatti con mezzo mondo anche se poi la domenica sera non sa con chi andare a cena fuori e nessuno gli risponde perché a Milano finito il weekend tutti con l'elmetto in testa perché domattina ci si sveglia presto e lunedì e c'è coda Olli invece vive in un suo mondo separato da tutto il resto non vuole nemmeno avere degli affetti vicino perché dal suo punto di vista come i ciclisti di un tempo insegnavano una donna ti distrae per cui vive con una specie di perpetua che gli fa metà da dietologa metà da governante e rapporti sentimentali si concede di averne fatalmente un po' fugaci solo nei due mesi all'anno in cui il circo del ciclismo è fermo e tutta questa storia esplode quando Luca che avrebbe tutto per essere contento perché ha un buon lavoro grazie alle percentuali dei contratti del fratello che guadagna molto bene guadagna di conseguenza piuttosto bene anche lui ha una moglie di cui è orgoglioso quando li riconoscono insieme al ristorante ha due figli splendidi e a un certo punto nella sua vita si incrociano due difficoltà ognuna delle quali basterebbe a mettere in crisi un uomo la separazione dalla madre dei suoi figli si trasforma in una specie di guerra del Vietnam cioè una separazione più che combattuta proprio un vortice di rancori di spetti e disastri e la seconda difficoltà è quella sul lavoro il fratello è all'apice della carriera lui ha mosso tutte le sue pedine per arrivare a fargli firmare il contratto quello che chiamano tra loro il contratto fine di mondo l'accordo che li metterà a posto per sempre e invece per un incidente questo contratto viene rimandato a data da destinarsi quindi nel momento stesso in cui avrebbe più bisogno di sostanze le sue economie sono a zero e inizia il suo precipizio in una città che non è Bologna è Milano per cui quando inizia a cadere nessuno ti conosce più perde la casa finisce a dormire in posti improbabili e tu dicevi è un'odissea penso di sì cioè non è ambientata per le isole del Mediterraneo è ambientata per lo più a Milano ma ci sono i lotofagi che cercano di scordarsi tutto c'è una donna che ha il potere di trasformare gli uomini in maiali ci sono persone che magari ufficialmente lavorano nel mondo del ciclismo che sono più cattivi del ciclope polifemo e insomma cerca di tornare a Itaca che assomiglia parecchio a questa città hai sapientemente e giustamente posto sul tavolo anche molti alcuni dei tantissimi fili che si intrecciano stressando appunto l'attenzione molto su questo rapporto tra Luca e Oliver i due fratelli dove il ciclismo in un certo senso appunto l'hai detto tu prima è solo uno strumento in un certo senso per raccontare la loro ricerca di affetto la loro ricerca l'amore l'amore è anche questo loro rapporto che è competitivo poi in un certo senso tra di loro insomma non so se lo leggo solo io ma insomma la competizione sta anche lì da una parte c'è Luca il libro si apre con un episodio della loro infanzia in montagna un'avventura una delle tante che Luca si inventa e in cui coinvolge il fratello il fratello timoroso come lo sarà appunto per tutto il resto del romanzo timoroso della ricaduta affettiva della ricaduta di preoccupazione che può avere sui genitori del non andare oltre le norme le regole prescritte il fratello invece Luca che le tenta un po' tutte anche a costo di mettersi in pericolo da piccolo come poi sarà da grande insomma quindi questo è un altro intreccio diciamo un sotto insieme del grande tema della famiglia abbastanza interessante insomma è protagonista del romanzo direi sì Francesca come dicevi il romanzo comincia con un errore di Luca è un antefatto è un flashback il grosso della storia si svolge ai giorni nostri ma essendo articolato su tre stagioni il romanzo un autunno che all'insegna proprio delle cadute inverno gelido freddo minaccioso la stagione più terribile della sua vita e la primavera in cui arrivati in fondo ai suoi guai Luca può provare a risorgere inizia inizia appunto con una caduta in flashback una caduta antefatto dove si capisce da subito che Luca ha sette anni di più ma il fratellino è sempre stato quello che ha più sale in zucca il fratellino che da grande da adulto farà uno sport il ciclismo molto faticoso ma in particolare nel ciclismo lui è un velocista uno di quelli che si lancia negli ultimi 500 metri delle tappe con gli arrivi pianeggianti quindi qualcosa che visto da fuori fa paura perché è un uomo che pedala 60 km all'ora passando in un spazio largo come il manubrio della bici più un millimetro di qua e uno di là tra le transenne e altri uomini che fanno ondeggiare la bici e infatti ogni tanto si cade pure però quando è fuori quando non ha il casco gli occhiali e l'abbigliamento da bici è un uomo prudentissimo è molto più razionale di lui Luca invece non solo è poco razionale molto istintivo ma come dicevi ha un peccato originale quello di covare rancore verso il fratello e nel momento più difficile della sua vita quando un uomo prudente al suo posto andrebbe col cappello in mano dal fratello che in banca ha i milioni dicendo per favore aiutami perché la mia vita si è messa in una maniera tale per cui devo uscire da queste strette e gli basterebbe andare da suo fratello non tanto lontano quello a lui sembra il momento adatto in cui far pagare al fratello l'idea che gli ha fregato la primogenitura e quindi anche come molti di noi non è né un santo né un criminale però attratti da delle prove di imbecillità che viste da fuori sono quasi seducenti e una delle storie che mi degli aspetti diciamo della vita reale mia dei miei amici delle persone che ho intorno di persone con cui ti capita di parlare in treno è proprio questo come in ognuno di noi ci siano delle virtù o dei talenti sublimi e poi commettiamo delle boiate che le raccontiamo un altro e diciamo ma perché l'hai fatto evidentemente il perché non è una risposta razionale ha a che fare con i nostri demoni con le nostre ciò che più temiamo ciò che più cerchiamo di evitare e ognuno di noi ha un talento unico nel mettersi nei guai che sarà diverso da quello di suo fratello suo cugino il suo amico e così come per fortuna ognuno di noi ha anche una ho fatto voto di non pronunciare la parola resilienza però diciamo il concetto è questo ognuno di noi ha uno stile specifico per rialzarsi dopo essere finito al tappeto c'è chi lo fa sorretto da una grande forza morale c'è chi la morale non sa neppure cos'è semplicemente è pratico e ci sono tutte le miscele possibili tra questi fondamenti della vita umana e insomma io ho cercato di raccontare una storia che dal mio punto di vista è realistica è contemporanea e in questo senso non poteva che esserci quello che vedo intorno a me uomini che a 40 anni hanno dietro una scia di disastri sentimentali da riempire le pagine di un volume alla guerra e pace altri che alla stessa età hanno ancora la mamma come la donna più importante della loro esistenza persone che vanno incontro a un fidanzamento o a un matrimonio con cuore leggero portate semplicemente dal sentimento e dal quanto è bello trovare qualcuno a cui volere bene e altri che invece non riescono a non fare i calcoli di poi in società questo come mi riposizionerà mi conviene non mi conviene Luca quando si sposa si sposa con una una festa di matrimonio faraonica villa sul lago di Como fuochi d'artificio colombe eccetera tutto pagato dal padre di lei e inizia un po' a preoccuparsi quando vede che c'è tutto questo lusso intorno e infatti prima che della serie ma quanto avranno pagato per tutto ciò e prima ancora che la festa finisca quando arriva il momento in cui i più anziani se ne vanno salutano gli sposi gli amici degli sposi e lasciano la pista ai giovani il suo nuovo suocero arriva e gli dice guarda che io ti affido mia figlia oggi è felice vedi che resti felice altrimenti me la paghi cioè lo minaccia apertamente nella sera stessa del matrimonio queste minacce si riveleranno plausibili un'altra cosa che ho ritrovato con molto piacere in questo romanzo la primavera perfetta Harper Collins ricordiamo titolo editore è la tua scrittura che attraversa questo odissea con ritmo di scrittura un ritmo musicale poi torneremo parleremo magari anche della musica è anche una playlist questo libro mi pare con leggerezza ironia anche quindi mi ha fatto piacere insomma che la tua scrittura non si sia incupita mi pare che si è molto maturato il tuo porti nei confronti delle storie ma la tua scrittura non si è incupita è rimasta insomma bella fruibile leggera leggera in senso ovviamente di fruibilità insomma di positività faccio un po' l'avvocato del diavolo tiro fuori temi diciamo così di contemporaneità le parole più spietate le figure più spietate che racconti in maniera più spietata sono quelle delle donne che incontra Luca Emma Emma sì ho avuto un momento di scusami di abbaglio Emma che è la moglie che come hai detto tu ha una carriera televisiva che a un certo punto viene interrotta per vari motivi a cominciare dal fatto che forse ha una famiglia a cui dedicarsi comunque decide di dedicarsi a questa famiglia a seguito di una carriera interrotta che è una donna che mette in piedi un Vietnam appunto una guerra del Vietnam contro questo marito una avvocata che si trova questo marito per cercare di sopravvivere a questo divorzio altrettanto impegnativa e altrettanto spietata e invece come controaltare diciamo così c'è la donna la ragazza che incontrerà Luca sul finire del romanzo all'inizio di questa primavera insomma per simbolo un po' di questa rinascita che invece al contrario è una figura assolutamente all'opposto angelicata in un certo senso questa diciamo sono questa modalità mi ha colpito di racconto delle donne per certe cose abbastanza duro insomma rispetto alla invece all'ironia con cui passi attraverso tanti episodi anche drammatici faticosi preoccupanti insomma della vita di questo anno del protagonista ma sì la storia comincia proprio c'è un conflitto insomma molto molto evidente la storia comincia in piena guerra in piena fase quello stronzo del mio ex quella stronza della mia ex per cui presumo che raccontata dalla moglie di Luca lei avrebbe usato parole ben più dure nei suoi confronti di quelle che lui usa verso di lei perché Luca come molte persone è uno che tende a pensare che i guai gli sono capitati addosso si sente Giobbe perché l'altissimo ce l'ha con me e mi manda queste prove e fa un po' più fatica a rendersi conto che molte delle difficoltà in cui si trova sono causate dai suoi stessi comportamenti per ognuno di noi è più facile autoassolversi e pensare che gli altri ce l'hanno con noi piuttosto che farsi un esame di coscienza e dirsi beh forse ho sbagliato qua, qua e qua è esattamente quello che accade col suo matrimonio lui si rende conto che la sua ex moglie è inferocita contro di lui ma quando parla dei tradimenti che le ha inflitto così all'italiana un po' alla Ugo Tognazzi ma cosa vuoi che sia è come se non si rendesse conto di quanto ha fatto soffrire questa persona che mi ha incazzata nera e anche questo è un aspetto che mi affascina enormemente è sempre colpa degli altri e infatti credo che il vero vento che gonfia le vele di questa odissea sia qualcosa che ha a che fare per quanto riguarda l'avvocato questa donna è cinica come molti avvocati ma è bravissima l'avvocato uomo che ha è uno scalzacani completo quindi in questo caso uno a zero per le donne e il credo che il vero viaggio che lui compie abbia a che fare con spostarsi dal luogo in cui lui riesce a pensare soltanto alla prima persona singolare io io ho questo problema io mi trovo in questa situazione io non so dove andare a sbattere la testa stasera e in maniera forzata forzata dagli eventi perché lui non si sarebbe mai buttato sua sponte in quel genere di prove comprese alcune durissime del tipo non hai un soldo arriva Natale i tuoi figli aspirano a un regalo come tutti i bambini e ragazzini del mondo come glielo procuri e ti trovi di fronte a dei dilemmi morali non che lui sia diciamo Hegel o Schopenhauer un tipo molto più leggero però si trova a fare cose che normalmente non aveva nemmeno mai preso in considerazione pur di restare vicino ai suoi figli e cercare di deluderli il meno possibile essendosi accorto che li ha già feriti in maniera forse irrimediabile ma cerca di salvare questo rapporto con quello che gli resta ma insomma il viaggio secondo me di Luca è un viaggio dal posto in cui ognuno pensa come io al posto in cui si può dire noi viene aiutato viene aiutato da un uomo e da una donna secondo me viene aiutato a pensare che non è lui contro il suo fratello non è il fratello che gli ha fregato la primo genitura da una persona anziana dal primo mentore primo scopritore di suo fratello come ciclista che è un uomo che parla in dialetto un uomo che viene dalla campagna un uomo uno di quei direttori sportivi del ciclismo vecchi a scuola che ti immagini quasi con la zappa in spalla perché il ciclismo è uno sport che nasce contadino primi vincitori del Giro d'Italia erano tutti contadini massimo muratori gente che faticava non facevano l'università ecco e il e quest'uomo con la sua saggezza popolare molto basica ma anche molto autentica gli permette di pensare che lui e suo fratello sono un noi non sono uno contro l'altro e l'altra persona che gli dà una lezione coi fiocchi secondo me sta all'altro capo del percorso della vita cioè è una persona molto giovane ed è proprio sua figlia una ragazzina di 12 anni quindi totalmente povera di esperienza per forza di cose ma capace di fargli capire le ragioni del cuore le ragioni del fatto che per i figli certo che è brutto che babbo e mamma non siano più innamorati ma questo è niente rispetto a vederli fare la guerra tutti i giorni a sua figlia basterebbe che smettessero di fare questo il bambino che è più piccolo addirittura non riesce a elaborare questa cosa si riduce a vivere come orfano a intermittenza quando è col padre non nomina neanche la madre se no chissà che problemi vengono fuori e Luca fa due più due e dice quindi quando è a casa con sua madre io non entro nemmeno nei discorsi non esistono nemmeno quando si rende conto di quanto in là quanto brutte sono diventate le cose grazie a sua figlia riesce a a rimettersi in discussione anche e il modo giusto abbiamo cominciato parlando di come si pensa ai propri ex il modo giusto da assumere quei propri ex glielo fa capire una ragazzina di 12 anni cioè non non sono persone che ci hanno hanno tramato contro di noi sono persone con cui ci siamo messi in viaggio poi la barca non è arrivata in porto ma non è arrivata in porto non perché l'altro mentre dormivamo ha scavato col succhiello un buco nello scafo per vedere la barca che affondava e ridere di noi l'amore ci ha abbandonato qualcosa è andato storto non siamo stati capaci di portare la nostra imbarcazione fino al porto ma allora dobbiamo guardare all'altro come non al nostro nemico come al nostro compagno di naufragio e quindi provare pietà per noi e per l'altra persona ecco questa cosa che una ragazzina di 12 anni nella grande io a quell'età dubitavo quando dicevano i professori tipo ma le ragazze a questa età sono più intelligenti poi ho quattro figlie femmine e ho capito che era vero cioè io alla loro stessa età crescendo ero sicuramente più focalizzato come il ciclista Oliver Fanti sull'idea che la vita è una pista che la vita è un rettilineo che devi pedalare più forte degli altri non mi rendevo conto fino a che punto le ragazze sono capaci di pedalare forte e anche vedere uno per uno i volti del pubblico che c'è intorno e pensare già dove faranno la doccia alla fine della gara e dove si cenerà hanno una prospettiva più ampia noi siamo più simplex e il tutto questo che una ragazzina di 12 anni capisce molto semplicemente e molto distinto ecco lui lo capisce a metà dei suoi 40 per cui è vero che ci sono donne furibonde ma credo che ci siano anche donne molto luminose in questa storia hai citato il tuo esordio letterario che tutti riconosciamo ricordiamo Jack Frusciante che è stato un romanzo generazionale un successo un caso editoriale pubblicato in più di 20 paesi quasi 25 paesi mi pare e divenne un film e tra i protagonisti di quel romanzo c'era Bologna che ritroviamo qua ritroviamo in questo romanzo come la città nido la città in cui Luca a un certo punto torna quando tutto sembra finito insomma e torna e intravede di lontano la madre e il padre che a un certo punto lo scorgono vede c'è il meloncello c'è il c'è il pratello insomma ci sono luoghi immutabili insomma come in un certo senso forse deve essere la famiglia che il luogo in cui torni diciamo e puoi metterti in ciabatte insomma puoi spogliarti puoi essere finalmente te stesso come vedi Bologna e che rapporto hai con Bologna contando che sei rimasto bolognese ma non solo insomma hai fatto hai vivi anche in altre città in altri posti mi raccontavi prima terra Rimini e lago di Como e che rapporto hai ancora con la città e come la vedi soprattutto anche a distanza di tutti questi anni e anche alla distanza geografica che hai preso abitando anche in altri posti ma è una distanza geografica che non è mai una separazione vera qui questa è la città in cui vivono le mie figlie è la città in cui vivono i miei genitori in cui vive mio fratello con la sua famiglia e vivono tanti amici per cui sono di continuo a Bologna e certo è è diverso non chiudersi la porta di casa dietro a Bologna però è come se fossi sempre stato dell'idea che troppo amore finisce per per falsare le cose per renderti troppo confidente troppo autoindulgente e ho la fortuna di fare un mestiere che si può fare portandosi dietro un computer portatile un po' dappertutto e il mio sogno quando ero bambino non era voglio andare a vivere qui o là il mio sogno era proprio io voglio girare senza sosta come vedevo fare a senza andare tanto lontano a zii a membri della mia famiglia cioè c'erano persone che di casa che partivano per andare a lavorare e tornavano otto mesi dopo perché il lavoro era in Etiopia o il lavoro era su un transatlantico e tornavano quando avevano finito di fare il giro del mondo c'era chi costruiva ponti in Africa e chi faceva il medico in diversi paesi mio padre che era il più stanziale andava a lavoro in aereo in Sardegna e tutto questo conviveva perfettamente con poi a tavola dalla nonna Arzdaura si era in 12 sono cresciuti ho avuto la fortuna vera di crescere in mezzo a una tribù di cugini e cugine quindi di vedere come si può essere diversi anche venendo dallo stesso posto e come si può ci si può aprire a ventaglio girando il mondo ma quando ci si ritrova sapere che quelli sono i tuoi per cui la distanza fisica non mi ha mai fatto paura anzi mi ha sempre attirato l'idea di spostarmi resterò bolognese per sempre questo è fatale e ieri sera ho molto sofferto per il risultato della partita del Bologna e soprattutto questo genere di cose che hanno a che fare con il fatto che nella mia vita reale nella mia autobiografia a questa città voglio bene c'è poco da fare e penso che sia un buon posto dove crescere un buon posto dove confrontarsi un buon posto dove leggere scrivere imparare che la musica non nasce dallo star system nasce dalle cantine nasce dagli studi di registrazione è una città che mi ha insegnato l'amore per il fatto che puoi praticare un'arte ma lo devi fare con lo spirito dell'artigiano non con lo spirito di quello che vuole fare la star e questo è insostituibile per quanto riguarda invece la primavera perfetta sì Luca anche lui viene da Bologna e visto che è in un momento in cui sta facendo i conti con la sua vita e deve chiudere questi conti se vuole ripartire i conti vanno chiusi tornando da dove tutto è cominciato a proposito di familiarità e fratellanze c'è una parentela che grado di parentela c'è tra Luca e Alex il protagonista invece di Jack Frusciante se c'è un grado di parentela beh parentela di sangue non lo so sicuramente hanno in comune credo che il loro parente comune sia io nel senso che quando passi due anni tre anni in compagnia di quelli che tecnicamente vengono chiamati personaggi per te non sono più personaggi per te sono dei tuoi amici tant'è che all'inizio li disegni decidi qualcosa per loro gli dai un nome li vesti ma dopo un po' non decidi più niente dopo un po' vanno loro dove vogliono e esattamente come un tuo amico mica decidi tu quando è che si alza si siede torna va cosa ordina per cena è una persona è una persona che se lo conosci bene puoi aspettarti che ordinerà non lo so le tagliatelle al ragù e non il piatto a buffet vegano o viceversa ma ma non sei più davvero tu che lo decidi ed è lo stesso motivo per cui quando arrivi alla fine di un libro non alla fine della prima stesura ma alla fine di tutto il lavoro che all'inizio è un lavoro di accumulo di scrittura di sono 400 pagine questo libro la versione iniziale era 1200 ed è sempre così per me la seconda fase invece è tutta una discesa una picchiata mentre la prima parte la prima fase è un accumulo la seconda assomiglia un po' al lavoro dello scultore cioè cava 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 togli tutto quello che non serve e la terza fase ha a che fare proprio con la musica del testo cioè lo riprendi in mano fingendo che l'abbia scritto la persona che ti sta più antipatica del mondo dicendo ma che cavolo ha scritto qua questa frase è tutta ingarbugliata questa frase è piena di assonanze poco felici e lavori tutto sul ritmo sulla musica sull'idea che una buona pagina è una pagina che si fa leggere bene ad alta voce potrebbe essere paradossalmente scritto in un'altra lingua ma deve suonare bene e in italiano abbiamo la fortuna di poter far suonare bene tante frasi di poter dare loro un'intenzione di dolcezza di poter dar loro un'intenzione di durezza di renderle molto ritmate o molto aperte e non è la stessa cosa in tutte le lingue del mondo e quindi la terza fase è sul lavoro diciamo così formale e poi arriva la fine l'editore ti dice ok ma avevi detto tre mesi fa che avevi finito che dovevi solo riguardare le ultime cose dico sì in effetti sono già passati tre mesi e ti rendi conto che stai diventando come quei genitori che non lasciano andare via i figli di casa perché hanno paura di restare da soli è il momento di farli partire e c'è un ultimo giorno in cui sai che è l'ultimo giorno perché dici al tuo editore oh Carlo dai stasera te lo mando giuro rileggo giusto l'ultimo capitolo e e quando arrivi all'ultima pagina dell'ultimo capitolo sai che sta finendo quel periodo di due anni tre anni quello che è stato in cui hai vissuto con questi personaggi che per te sono diventati delle persone vere non so come dire dei fantasmi di persone vere ma te li sei immaginati a cena te li sei immaginati a bere il caffè con te la mattina le loro frasi ti risuonavano in testa saltando giù dal letto la mattina o andando a fare una corsetta e sono le ultime che ti vengono in mente la sera prima di chiudere gli occhi e sai che questi meravigliosi amici se ne stanno andando e non torneranno più perché un libro che ti piace lo puoi rileggere lo puoi rileggere ma non lo puoi riscrivere e quindi ti devi proprio separare definitivamente e allora hai quella disperazione da persona che vede partire gli amici sul treno verso un posto dove tu non potrai andare mai e quindi se hai un minimo di cuore a me succede ogni volta metta a cazzo di guerre cioè mi viene proprio da piangere non c'è niente da fare perché perché senti che è finita una stagione anche se è una stagione meravigliosa siamo fatti così e tutto quello che finisce senza rimedio ci scuote ci commuove ci ci emoziona ecco forse per arrivare a una conclusione prima di sapere se c'è qualche domanda anche dal pubblico hai detto una cosa giustissima insomma su questo romanzo cioè ogni pagina è scritta che può essere letta ad alta voce perché la scrittura è morbida e accogliente e è veramente una chiacchierata un dialogo col lettore insomma questa tua scrittura questo penso sia uno dei tuoi doni principali insomma che hanno segnato la tua carriera insomma come scrittore è una cosa che ho sempre molto apprezzato e che è molto evidente in questo romanzo secondo me diventa accogliente per il lettore diventa una modalità per trovare un amico con cui chiacchierare con cui fare un viaggio con cui passare un po' di tempo insomma questo penso sia una delle cifre di questo romanzo ti ringrazio molto e lo prendo come è un grande complimento Francesca perché secondo me uno dei più grandi equivoci che riguardano la scrittura è il fatto che debba essere profonda di quella profondità che si chiede a un testo di filosofia o a un testo di scienze sociali cioè una persona che prende in mano il tuo libro decide di dedicargli del tempo sta facendo un investimento emotivo è la sua vita e questo credo di aver imparato dagli amici musicisti chi viene a vederti suonare vuole star bene perché quella sera poteva fare mille altre cose invece è proprio lì e tu lo devi rispettare e onorare al massimo esattamente come se vengono degli amici a casa tua li tratti bene e chi prende in mano un mio libro in un certo senso è mio ospite e devo cercare di non scordare mai che la scrittura è musica che la scrittura è un modo per indagare i segni che ognuno di noi trova nella vita è tante cose è magia ma è anche banalmente come scrisse Pier Vittorio Tondelli scegliendo un esergo una citazione di uno dei suoi libri lo scrittore è anche un just an entertainer cioè devi raccontare storie che le persone hanno piacere ad ascoltare non saltare in piedi sul tavolo dicendo ora vi racconterò una storia profondissima e se non l'avete capita avete sbagliato voi e torturare il lettore come spesso poi succede anche nei film siamo contro la tortura siamo contro la tortura in tutte le forme qualcuno ha qualche curiosità per Enrico? anche questa è una forma di tortura anche questa è una forma di tortura allora ne ho io una però per concludere io sono sopravvissuta al lockdown camminando prima camminando nel quartiere poi cominciando a camminare sui colli insomma poi come va questa tua carriera a piedi insomma ci hai raccontato bellissimi viaggi fatti a piedi hai riscoperto una modalità insomma sei stato uno dei forse uno dei precursori in un certo senso mi pare che si è diventato un po' di moda a camminare però tu lo fai da tantissimo tempo e lo racconti anche molto in modo anche questo di conoscere di incrociare storie insomma di incrociare anche se stessi insomma come va col camminare? va bene al netto del fatto che i mesi di scrittura sono stati mesi molto più statici di quello che avrei voluto ma ora è arrivata la primavera perfetta infatti ho qui un amico rocker e fotomodello che inviterei ad alzarsi in piedi e mostrare la felpa con il nostro emblema al pubblico è la felpa degli psicoatleti la nostra associazione di camminatori grazie Nixon psicoatleti nel senso che trovano nel camminare una sorta di percorso psicoanalitico in questo senso? psicoatleti ha un doppio significato uno scherzoso goliardico che ha a che fare col fatto di sentirci dire mille volte dalle persone quando arrivi nei paesi quelli dove non arriva quasi mai nessuno a piedi fuori dai circuiti dalle Alpi dalle zone più battute molte volte vedono arrivare queste persone un po' malinarnese accaldati uomini con la barba lunga donne con i cappelli in disordine tutti con lo zaino in spalla i locali un po' ti guardano con sospetto poi viene avanti il più coraggioso e ti fa una domanda che spesso suona are you English? tu dici no ma che English non siamo italiani ah allora lì parte la curiosità ma chi siete dove andate e quando dai a volte in maniera assolutamente sincera la risposta citando la tua meta ultima di quel viaggio dici immaginatevi essere a Montemiletto in provincia di Avellino dove state andando e tu rispondi a Gerusalemme spesso ti dicono ma siete pazzi e allora psicoatleti per certi versi viene da questo confrontarsi con la presunzione di follia che altri ci attribuiscono e in senso più serio il psuche in greco era la mente ma la stessa parola indicava la mente e l'anima che credo che siano due componenti che hanno un ruolo molto importante nei cammini non è un'attività sportiva anche se la fai vestito in maniera molto informale non si cammina solo con i polpacci si cammina portando in giro la propria curiosità e abituandosi a prendere decisioni insomma dal mio punto di vista è qualcosa che migliora la vita e migliora sia il modo di pensare perché ti metti nei panni degli altri perché lo straniero sei tu il forestiero sei tu quello che deve salutare per primo sei tu chiedere per cortesia eccetera e dall'altro proprio l'anima nel senso che per me è un sollievo enorme dopo mesi passati a occuparmi di punti e virgola e assonanze spegnere tutto diventare analfabeta di nuovo per qualche tempo e il mese prossimo per risponderti 3 giugno se non sbaglio ripartirò appunto con i buoni cugini come ci chiamiamo fra psicoatleti da Siena per raggiungere Roma a piedi lungo la via francigena per la terza volta e tempo di arrivare a Roma freccia rossa per Milano recupero la bici e farò una se avrò ancora le forze di pedalare questo viaggio in bicicletta sulle orme di un ciclo reportage fatto esattamente 80 anni fa da Giovannino Guareschi l'autore di Don Camillo Peppone e compagnia che partì da Milano arrivò a Rimini si diresse via Ravenna Ferrara passò il Po Verona Lago di Garda e tornò a Milano produsse questo reportage in sei puntate per la terza pagina del Corriere che per certi versi è molto divertente molto ironico e autoironico lui aveva un fratello più giovane racconta ma non ho capito perché quando mio fratello che ha 20 anni si mette i braghini neri da ciclismo signore e signorine lo guardano ammirate e dicono oh che bel giovane vestito da ciclista e lui invece era un uomone grosso ma quando invece mi metto io i braghini da ciclismo signore e signorine fuggono dicendo aiuto c'è un omaccio in mutande nere e quindi era racconta addirittura il sottotitolo di questo reportage è un po' per gioco un po' per dimagrire quindi non gli mancava certamente l'autoironia ma contiene anche momenti di grandissima poesia racconta di questo viaggio ne attappa lungo la via Emilia da Parma parte la mattina deve arrivare a Bologna parte con una certa lungimiranza essendo estate prima che il sole si alzi è estate lavori nei campi tutte le case affacciate sulla via Emilia hanno le porte aperte e lui racconta di non sentire la fatica del pedalare perché è trascinato dal profumo del pane che esce dalle diverse case poi la giornata peggiora radicalmente quando ormai è a Modena è ora di pranzo dice ormai ce l'ho nel sacco la tappa Bologna è vicina si ferma mangia beve due bottiglie di Lambrusco primo secondo è dolce gli ultimi 40 km diventano un inferno però insomma mi piace ripercorrere anche fisicamente le orme di qualcuno che per me è stato significativo succede con i viaggi a piedi si può fare in bicicletta si può fare con la mente si può fare semplicemente leggendo o chiacchierando ed è un modo secondo me per tenere vicine delle persone a cui in qualche modo vuoi bene allora ringrazierei anzi ringrazio Enrico Brizzi che ha voluto presentare qua in Sala Borsa la primavera perfetta Harper Collins ringrazio Sala Borsa per l'ospitalità ringrazio Coppaleanza 3.0 e buona lettura a tutti e buon cammino a Enrico e ai suoi cugini buonasera grazie buonasera applausi